Farà dei laboratori di dimostrazione della lavorazione del legno, della pietra ravica, eccetera, eccetera. Noi non vogliamo pentole, piacche, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, io ho il prodotto, io ho il prodotto, io ho il prodotto, io ho il prodotto nel nostro territorio. La collega si occuperà del, sarà la nostra responsabile, diciamo, area booking recettivo. Vedi, se puoi aggiungere qualche cosa, sa, questo è la parte tecnica. Ma volevo aggiungere, dico che a questa carta era affiancata anche un... La medica, no, non è così. Ma qua, dice, guarda, io faccio la causa. Da dove? A mezzogiorno in mezzo. La chiunca. No, io ho fatto un protocollo di intensa, guarda pure a che ci stanno, lo ho messo, 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 lo ho messo. Una prima lettura, che cosa andrà a visitare, esattamente, in questo modo. Ecco, purtroppo però bisogna considerare che lottiamo contro i morali. Questa è una piccola cosa che chiaramente visita. Cioè, questo è un grande problema, cioè noi a Catania, alla Curia, c'è in posto la visita. La medica... La medica... La medica... Diamo ovviamente questa iniziativa come strumento di promozione della città di Cireale. Cioè, è un'iniziativa come strumento di promozione della città di Cireale. E io, insomma, volevo... E io, insomma, volevo...